Siamo con Massimo Ghezzi, Presidente del Triathlon, che è una stradivare. Allora, presentazione di una stagione ricca di ambizioni per la vostra società. Avete adestito due squadre elite, entrambe molto competitive, per portarvi in ambito nazionale e internazionale ai vertici del triathlon. Ecco, gli obiettivi di questa vostra stagione e poi quali sono appunto i programmi futuri? Sì, intanto gli obiettivi per il 2009 sono sicuramente le gare più importanti del panorama nazionale, che è il Pardolino, e tutti i campionati italiani. Per andare all'estero sicuramente ci sarà l'Iron di Francia, che siamo già detestori del sito dell'avvisore dell'anno scorso, e le gare anche di Coppa del Mondo, che sarà il nostro atleta Vladi Poli-Kalpenko. Ecco, ci puoi illustrare le dettagli delle due squadre, i due tachisti, tra gli atleti che le compongono. Dice appunto Poli-Kalpenko, ma ci sono anche altri atleti emergenti in campo maschile. Sì, sicuramente i più emergenti di tutti è Davide Bargellini, che è un atleta nazionale. Ha ritornato con noi Leonardo Ballerini, Bursi che è sempre stato nella nostra presenza fissa, e dall'ungherese Saba Rentes, che adesso è alle canali con la Federazione Ungherese. Per quanto riguarda il femminile, ovviamente è la stella di Martina Dodana, che farà la sua prossima presenza all'Ironman. Abbiamo anche aggiunto un atleta ungherese, la Töt, che fa parte anche lei della Federazione Ungherese, Monica Cibbi, Farata Vecchio, Irma Ventura e Francesca Rossi, sono quali che poi compongono tutto il gruppo. Ecco, invece da un punto di vista societario, la vostra società in questi ultimi anni si sta distinguendo a livello nazionale, con due battute appunto sul vostro lavoro. Sì, diciamo che adesso in ambito nazionale, che la fa un po' da padrone, sono delle squadre militari. Noi forse siamo una delle squadre civili più forti, che riusciamo un attimo anche a autogestirci. Finirà di Cremona, cercherà appunto di sovrastare le squadre militari, ma soprattutto di andare anche all'estero a fare le competizioni. Ok, grazie mille. Grazie. 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 Grazie.